Questa è l'isola della batteria nel Delta del Po, sprofondata in seguito alla subsidenza indotta dalle estrazioni di gas metano negli anni 40 e 50 del secolo scorso. Abbassamento del terreno che si è verificato nell'intero Delta del Po, mediamente di 2 metri e mezzo, con punte di 4. Ora il governo intenderebbe riprendere ad estrarle davanti al Delta del Po, con seri pericoli per il territorio, per chi lo abita e per le attività economiche che vi si svolgono. Noi pensiamo non sia una buona idea, anzi che sia da contrastare. Ad Adria vi aspettiamo per sabato 3 febbraio alle ore 10.30, se siete d'accordo con noi. Il Comune di Adria, l'ente Parco Delta del Po Veneto e il coordinamento Polesine-Nortrivelle vi invitano ad una marcia contro le estrazioni di gas nel Delta del Po e nell'Alto Adriatico. Il raduno è in Piazza Garibaldi davanti alla Cattedrale. Saranno presenti i rappresentanti istituzionali locali, regionali e nazionali e delle associazioni e comitati ambientalisti e difesa dell'ambiente e del territorio. Il Delta ha già dato. Diciamo no a nuove estrazioni.